Arriva Luigi Di Maio a Teramo, accompagnato dalla candidata presidente alla regione Abruzzo, Sara Marcozzi, per una passeggiata elettorale tra le bancarelle del mercato settimanale. Ad accoglierlo il prefetto Graziella Patrizzi e il questore Enrico De Simone. Di Maio interviene subito sul tema del lavoro, che secondo il suo punto di vista aumenterà per tutti, e non si sottrae al commento sul sondaggio odierno che vede la Lega superare di oltre 10 punti il Movimento 5 Stelle. Il sondaggio vi dà 11 punti sotto la Lega, cosa state sbagliando? Quei sondaggi sono i sondaggi che non ci hanno mai dato come prima forza politica durante le elezioni e la campagna elettorale delle politiche. Io non credo nei sondaggi, non ci ho mai creduto quando andavano bene e non ci ho mai creduto quando vanno male. Io credo ai sondaggi delle persone, alle piazze, ai mercati, ma soprattutto credo ad un'altra cosa, ai dati che ci servono a migliorare la qualità della vita degli italiani. Il ministro Di Maio, incalzato poi sulle regionali in Abruzzo, non risparmia critiche aspre sia a Legnini che a Marsilio. La prima cosa assurda che sto vedendo è che in questa regione chi ha distrutto la regione adesso sta dicendo come la si possa salvare. E questa è la follia più grande. Abbiamo da una parte Legnini che ha partecipato alle malefatte del PD dai tempi del governo Monti votando la Fornero e dall'altro uno che l'Abruzzo neanche lo conosce, neanche dell'Abruzzo, ma ha dentro tutti coloro che hanno fatto parte di quel centrodestra regionale che ha contribuito a mettere in ginocchio questa regione. Stuzzicato infine sulla recente polemica dell'imprenditore vicino alla Teramo Calcio, che ha sostenuto in un'intervista, diventata poi virale, di rispettare la Camorra come la Camorra rispetta lui, Di Maio ha risposto senza esitazioni. Non solo la mafia e la Camorra sono una montagna di merda, ma bisognerebbe evitare di parlare così a cuor leggero di temi che hanno rappresentato sofferenze per popoli e popoli. Il mio popolo è purtroppo ancora sotto gli effetti di politiche criminali che non sempre sono solo delle organizzazioni criminali. La Camorra esiste perché è esistita e esiste ancora una classe politica che l'ha avallata, che l'ha favorita. Quindi evitiamo frasi fatte o frasi infelici, profondamente infelici come quelle che sono state pronunciate sulle organizzazioni criminali, i luoghi comuni del cavolo.